Conf Commercio non ci sta e non digerisce l'ordinanza anti-alcol emanata dal Comune di Udine dopo i gravi fatti che hanno coinvolto Scimpei Tominaga. Come non mai la categoria degli esercenti si sente marchiata per colpe non sue ed esprime la sua rabbia tramite la voce di Giovanni Pigani, mosso da un grande sostegno anche politicamente trasversale da parte di tutti gli esercenti. La protesta è una cosa che mi ha proprio colpito girando i nostri associati, è di un problema di moralità, di etico, di essere stati attaccati come categoria non centrando il vero problema di sicurezza, cioè andando a cercare un problema pagliativo, l'alcol eccetera, proprio come ben dicevi che si beve già dalle 8, alle 9, alle 10, alle 11, quindi sì. È stata proprio una sorpresa vedere come la categoria si sia unita e abbia chiesto di farci sentire. Per questo gli esercenti di Udine hanno deciso per una importante doppia iniziativa. La prima, boicottare la Notte Bianca interrompendo qualsiasi discorso col Comune in particolare relativamente agli eventi musicali e indicendo una serrata per lunedì 8 luglio, la giornata in cui ci sarà il Consiglio straordinario in Comune per la sicurezza. Il duro colpo non vuole essere politico, ma vuole essere un colpo in cui il Comune, come sempre ha fatto, perché bisogna dire la verità, noi siamo seduti insieme, come ho saputo che hanno detto, noi ai tavoli ci hanno sempre chiamati, però poi su un problema così grave si sono scordati di chiamarci, cioè di farci sedere e magari insieme di potergli suggerire il fatto che magari questa volta non eravamo noi il problema sicurezza. Però abbiamo visto che il problema della chiusura non è stato quello che ha portato un beneficio, ma invece abbiamo visto che il rafforzare le pattuglie e i pattugliamenti notturni, diurni, anche con i poliziotti a piedi in centro, poi adesso sembra siano arrivate altre 60 unità, unità, quindi sono questi gli interventi che vanno messi in campo.